Furto e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche e soprattutto tentativo di procurata evasione, ingresso arbitrario in luoghi militari e danneggiamento. Con questi capi di imputazione a vario titolo vanno a processo sette persone, mentre per altri tre imputati il conto con la giustizia si è già chiuso con un patteggiamento davanti al GUP Martino Rosati. Un anno ed otto mesi di reclusione a testa per Giacinto e Massimiliano Lanucara, accusati di furto e resistenza, e per Angela Mignogna che partecipò all'assalto della caserma dei carabinieri a Paolo VI. Per altri tre imputati, Luciano e Ivan Lanucara e Adolorata Mattesi, la richiesta di patteggiamento è stata rigettata poiché in tempestiva giunta a termini già decorsi. Dunque per loro ed altri quattro imputati il processo si svolgerà davanti al tribunale collegiale nei prossimi mesi. Questa è stata la decisione del GUP a conclusione dell'udienza preliminare svoltasi in queste ore. I fatti risalgono al novembre 2013 quando i carabinieri arrestarono cinque persone colte in flagranza di reato di furto in un cantiere. Poi, al momento della traduzione in carcere, la stazione militare venne letteralmente assediata e poi assaltata da parenti e amici degli arrestati nel tentativo di procurare loro l'evasione.